Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video Oggi parliamo di 5 giocatori in hype al fantacalcio Si tratta di 5 nomi che in questo momento sono sulla bocca di tutti Tutti conoscono, c'è sia un aspetto positivo ma c'è soprattutto l'aspetto negativo di questa faccenda Visto che se sono dei nomi che tutti conoscono e sui quali tutti hanno grosse aspettative Il prezzo tenderà ad alzarsi Quindi dobbiamo fare particolare attenzione a questi nomi Prima però di fare i nomi iscriviti al canale se ancora non sei iscritto Lascia un like per supportare questo contenuto Ricordo sono aperti gli abbonamenti al canale se vuoi dare una mano a questo canale nella sua crescita Per le grafiche di questo video utilizzo l'app Fantalab, il tool per l'asta perfetta Dove vado ad impostare la mia strategia durante l'asta e la utilizzo appunto grazie al tool dell'asta perfetta Puoi impostare anche tu la tua strategia su Fantalab oppure importare la mia Se ti registri con il link che trovi in descrizione troverai anche lo sconto sul premium di Fantalab Pagandolo soli 9,99€ per tutta la stagione Altro link che trovi in descrizione è quello per iscriverti a Fantacampionato Gazzetta La competizione ha premi più ricca d'Italia Io parteciperò quest'anno Se ti va di sfidare me e altri milioni di Fantalenatori Ti invito a passare dal link che trovi in descrizione Ultima cosa vi aspetto su Fantaclab per la Lega riservata agli iscritti del canale Siete tutti invitati a partecipare Basta cercare la Lega Fantavirus 2023 Il primo nome in hype che vi presento in questo video è una sorta di risposta Alle tantissime domande che mi fate in live su questo giocatore A proposito di live ricordo che mi trovate da lunedì al venerdì in live alle ore 18.30 Parliamo quindi di Federico Gatti della Juventus Uno dei nomi più in hype fra i difensori Come la scorsa estate anche quest'anno tantissimi Fantalenatori sono pronti a commettere il solito errore Ovvero puntare una discreta percentuale del proprio budget su un giocatore che come lui Allo stato attuale delle cose non garantisce titolarità Allegri infatti ha deciso di continuare con la difesa 3 Danilo e Bremer sono due nomi indiscutibilmente titolari, inamovibili Sul centro-sinistra c'è comunque Alexandro E considerando la situazione attuale sicuramente possiamo dire che Gatti è un giocatore interessante Che può dire la sua al fantacalcio Giocherà diverse partite Però non ne ho considerato un titolare fisso Quindi come scommessa a pochi crediti ci può stare Ottavo slot scommessa Nella speranza che riesca a rubare il posto da titolare all'exporto Che ormai è in netto calo da alcune stagioni Ma a cifre importanti Come quelle che sto sentendo nelle live Non ci punterei assolutamente E infatti dati delle prime aste alla mano So guardando che il prezzo del ex-frosinone è tutt'altro che basso Stiamo intorno al 3% del budget di spesa Quindi ragazzi fate molta molta attenzione Se dovete ancora fare l'asta siete in tempo ad evitare Questo errore che può compromettere la vostra stagione In quanto spendendo una cifra importante Su un difensore Che non garantisce la titolarità certa Rischiamo di non comporre un buon reparto difensivo Ma adesso passiamo al centrocampo E passiamo di conseguenza al secondo nome Parliamo di Davide Frattesi Che nell'ultimo bienio è stato un grande protagonista Al fantacalcio Con il Sassuolo Uno dei migliori Ma il suo recente trasferimento all'Inter Ha innalzato E non di poco L'Aip intorno al suo nome Va sicuramente chiarita una cosa Non sto sconsigliando Frattesi Anzi Per me è un validissimo secondo slot Capace di segnare 4-5 gol come minimo Ed è andato anche nella squadra giusta per lui L'Inter Una squadra che riesce ad esaltare Le mezzali di inserimento Che sanno buttarsi dentro l'aria Per cercare la conclusione Quindi di base per me Frattesi è perfetto per il gioco dell'Inter Quindi chiariamo Io non sto sconsigliando Frattesi Ma vi voglio mettere in allerta Soprattutto sul prezzo Visto l'andazzo delle prime aste In cui è stato pagato da top di reparto A mio avviso infatti resta un giocatore Sul quale spendere intorno al 5% del budget disponibile Sicuramente farà molto bene Perché quella nerazzurra Per me come detto È la miglior scelta Per lui E può esaltarsi ancora al fantacalcio Ma va preso al giusto prezzo Altrimenti rischiate di non riuscire ad allestire Un centrocampo competitivo Il piatto forte di questo video È costituito da tre attaccanti Il primo di cui vada a parlarvi È Cyril Gonge del Verona È un elemento centrale Nello scacchiere tattico di Baroni Per lo sviluppo della manovra offensiva È imprescindibile L'obiettivo della doppia cifra È sicuramente un obiettivo alla portata Per un giocatore talentoso come lui Ma non va dimenticato Che resta un terzo quarto slot d'attacco In base al numero dei partecipanti Della Lega E quindi va pagato il giusto Nelle prime aste però Cosa sta accadendo? Visto che il listone in attacco è poverissimo Non ci sono tante alternative Diversi giocatori Fra cui proprio un gonge Che andrebbero presi Spendendo una cifra compresa tra il 5 e il 7% del budget Stanno arrivando al 10% E addirittura in alcuni casi lo superano anche È una mossa del genere Spendere il 10% oltre Su un giocatore come in gonge Non so quanto possa essere profittevole Sul lungo periodo Se fai l'asta d'oggi Perché andiamo a privarci di crediti importanti Che magari potremmo perché non sfruttare L'asta di riparazione di settembre Nella speranza che potrebbe arrivare qualcuno In attacco di importante Discorso leggermente diverso In chiave mantra Visto che il listato A E in questo ruolo È molto più appetibile Soprattutto perché quest'anno I moduli con le A Mi sembrano i migliori Il quarto nome è Matteo Reteghi Centravanti Italia-Argentino Appena arrivato al Genua Di Gilardino Perdonate tra le altre cose la rima Nei Liguri sarà un titolare fisso E onestamente come attaccante non mi dispiace Visto che è un attaccante Che sa usare bene il fisico Attacca bene la profondità Ha un buon colpo di testa Un abile tiratore dagli 11 metri Quindi un valido rigorista E me lo aspetto appunto come primo rigorista Del Genua Ma che cosa ci può dare al fantacalcio Io mi aspetto la doppia cifra di lui Cosa vuol dire questo? Che Nasti di partenza è un valido terzo slot Da alternare nel nostro tridente offensivo In base al calendario E da pagare intorno al 10% del budget Credito più Credito meno Bisognerà però anche in questo caso Fare i conti con l'AIP Che c'è attorno al suo nome Visto le recenti prestazioni buone in nazionale Un AIP generale che c'è intorno al Genua E infatti nelle prime Aster Reteghi sta andrando a prezzi importanti Anche qui forse condizionato Dal fatto che non ci sono tantissimi nomi in attacco E quindi si sta andando a spendere Un 15% del budget su Reteghi Per me è un giocatore che Se si può prendere al prezzo giusto Si prende Ma dobbiamo evitare le cifre folli Perché con un listone carente È molto poi facile completare il proprio reparto Con seconde linee Quinto ed ultimo nome Super AIPato Nelle live Mi chiedete tantissimo di lui Andiamo su Ebilal Toure Nuovo acquisto Dell'Atalanta E visto il recente successo Riscosso da Oilon Lo scorso anno Tanti fantalenatori Decideranno di puntarci forte A occhi chiusi Questo è un altro giocatore Che non vado a sconsigliare Ma voglio invitarvi A prenderlo a cifre sostenibili Come attaccante Ha prospettive notevoli Utilizza il fisico bene Molto simile a Zapata Deve però imparare A essere più pulito E disimpegnarsi Nell'alleggerire il pallone Ai compagni Può essere molto interessante Al fantacalcio Perché può avere La doppia cifra di gol In canna Ma oggi va considerato Come un terzo slot attacco Su cui puntare Il 10% del budget E magari Nelle prossime settimane Riusciremo anche a capire Se potrebbe essere vantaggioso Sbilanciarsi di più Su un possibile investimento Per questi giocatori Ma ad oggi Ci sono ancora troppe incognite Soprattutto lì davanti Nell'Atalanta C'è una certa abbondanza C'è Lukman C'è Zapata C'è Muriel Indirittura d'arrivo C'è anche Scamacca Per cui non è facile capire Chi possa giocar titolare E soprattutto Se con l'Europa League Gasperini Andrà a ruotare Un po' tutti Per cui Calma Non cavalchiamo L'hype Che c'è su questo giocatore Magari farà bene Ma oggi Non me la sento Di puntare Su di lui Una cifra grossissima Come il 15 O il 20% Del budget Bene ragazzi Per oggi è tutto Il video finisce qui Non termino i nostri appuntamenti Quotidiani Con la guida Del fantacalcio Vi aspetto già domani Con un nuovo ed imperdibile contenuto A tema fantacalcio Ciao a tutti